Green Pass, a due giorni dall'entrata in vigore dell'obbligo del certificato per lavorare, crescono le preoccupazioni, il prefetto di Verona corre ai ripari, monitoriamo i violenti. Elena Chemello. I tamponi, troppi si teme quelli necessari rispetto alla capacità del sistema di gestirli, i servizi da garantire alla cittadinanza e ancora il rischio di tensioni con le già annunciate proteste per sabato. È ricca di incognite a Verona, come altrove, la vigilia dell'introduzione dell'obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro. È un impegno notevole, ci sarà lo sforzo massimo da parte di tutti per far sì che la norma sul controllo dei Green Pass entri in vigore e consenta che l'attività, il mondo del lavoro, il settore dei trasporti, tutto funzioni e funzioni nel modo migliore possibile. Alla luce di quello che è successo lo scorso fine settimana, temete che possano verificarsi delle tensioni? Dopo quello che è avvenuto sabato scorso, la tensione sarà centuplicata da parte delle forze di polizia. Proprio domani noi ci incontreremo in comitato e discuteremo sia delle problematiche del Green Pass, anche con i sindacati, le associazioni industriali, sia delle problematiche di ordine pubblico. Ancora una volta quando si tratta di manifestazioni violente ci sono veronesi protagonisti. C'è un particolare monitoraggio che viene fatto dalle forze dell'ordine? Stiamo monitorando la posizione di qualche veronese che è stato coinvolto nelle violenze di sabato scorso e il questore sta facendo una verifica con i suffici su eventuali misure che possano essere adottate.